Un successo straordinario per i yellow della società sportiva Forever Swim, che si classificano al primo posto nella quinta giornata del quarto trofeo regionale Master Iron Wisp di nuoto. La gara, svoltasi domenica 10 aprile a Pagani, presso l'impianto sportivo Divers Drive Fitness Club, ha visto primeggiare gli atleti gialli, costruendo la vittoria bracciata su bracciata, dominando alla grande la vasca. Al secondo posto l'associazionismo vomerese e dal terzo posto l'ASD Sporting Club Poggio Marino. L'importante risultato conseguito dalla prima classificata è stato ottenuto anche grazie alle numerose medaglie vinte nelle gare individuali e nelle staffette. Prima del Team Master Forever Swim, ma in una società natatoria del Salernitano, dalla prima edizione del torneo Iron Wisp di nuoto, era stata in grado di vincere una giornata del trofeo. Contro ogni pronostico e grazie all'amicizia, l'impegno e la dedizione, anche questo risultato è stato reso possibile dai nuotatori in giallo. E con questa vittoria il Team Master fa un balzo in avanti nella classifica generale del torneo Master Iron Wisp, piazzandosi al secondo posto e superando la partenope nuoto. Il prossimo appuntamento sportivo è in programma a Caserta, il 22 maggio, presso lo Stadio del Nuoto, dove si svolgerà la finale del quarto trofeo regionale Master Iron Wisp.